Il problema che è venuto fuori con questo decreto del governo, quindi con la legge di stabilità, è che si doveva pagare solo in quei comuni in cui l'aliquota era stata aumentata in modo strumentale nel 2013, dal 4 al 6 per mille. Il comune di Catanzaro ha legittimamente aumentato questa aliquota nel 2012 per far quadrare il bilancio 2012 e quindi con l'abolizione dell'Imu nel 2013 sulla prima casa il governo già ci aveva rimborsato la prima rata, pari a 1.800.000 euro. Ora in sede di conversione abbiamo trovato questa sorpresa che il governo ci ha fatto. In pratica ha obbligato quei comuni in cui è stata aumentata l'aliquota nel 2012 e nel 2013 al pagamento del 40% di quanto dovuto. In pratica il cittadino si troverebbe a pagare il 40% di quel 2 per mille di aumento. Cifre irrisorie per una parte di cittadini perché in pratica sarebbe il 40% di circa 25-30 euro, quindi andrebbe sotto la soglia minima e quindi il cittadino lo stesso non dovrebbe pagare sotto i 12 euro. E per chi ne pagava 80-100 euro pagarene 35-40. E quindi diciamo una bruttura dal punto di vista della legge che in modo ex post, cioè dopo aver rimborsato alcuni comuni dell'abolizione, si è ritrovato il comune stesso a doverla applicare. E' una bruttura, ma non soltanto una bruttura in quanto rappresenta un'illegittimità, perché è stata fatta dopo, ma diciamo anche che non solo questa bruttura al danno la beffa a dover includere anche chi lo aveva fatto nel 2012. Anche l'Anci si era reso protagonista, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani si era reso protagonista di una lotta che si basava soltanto sull'Imu 2013, che aveva fatto l'aumento nel 2013, non nel 2012. Comunque per quanto riguarda il Comune di Catanzaro, noi già stiamo approntando uno studio per vedere come intervenire affinché il cittadino sia sgravato da questo inutile adempimento, visto che il Governo centrale ha abrogato l'Imu sulla prima casa e ritrovarsi poi con il Comune che lo applica, diciamo che sarebbe un controsenso. Quindi stiamo cercando i fondi, stiamo cercando di reperire i fondi per eliminare questo adempimento. Non è una promessa, però lo studio e la buona volontà la facciamo, però dobbiamo combattere contro un Governo che in questo momento ha legiferato in modo incompetente e in modo illegittimo.